Bella ragazzi, qui è il Cine e oggi siamo qui tornati con un nuovo video Non si tratterà di calcio oggi, non si tratterà di FIFA 15, FIFA 16 Molti diranno, oh finalmente Cina, non porti più video di FIFA Invece li porterò e come? Soltanto che volevo variare un po' tra PES, FIFA e altri giochi Oggi mi porto un gioco che si chiama The Forest, un gioco horror Che magari molti di voi hanno già sentito, hanno già giocato Fatemi sapere sotto nei commenti Prima di incominciare però ragazzi, volevo un attimo farvi vedere il nuovo acquisto che userò appunto in questo video Che mi è arrivato insieme ad altre cose della Razer Praticamente la tastiera e il mouse e le cuffie che userò oggi in game E' praticamente il Sirene Pro Non so ragazzi, quanto sta che è Sirene Pro, Sirene Pro, una sirena è una cosa del genere Quindi passiamo subito all'unboxing, vediamo un po' Oh, ce l'abbiamo fatta Ok, 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 l'abbiamo aperto I soliti velcri qua della cosa Uh, attenzione ragazzi, super pacchetto con qualcosa dentro Non so se lo stendo che cosa Qua ci sono le istruzioni che ti dicono viva il microfono che hai appena comprato E poi c'è uno strato di gomma piuma Eh sì, perché qua c'è il super microfono, mamma mia ragazzi Questo qua, ma poi è enorme eh, pensavo fosse più piccolo Ma che cazzo è raga? Cioè, è un robo gigante Non fate da più i sensi eh Poi la cosa figa che ho visto appunto anche dalle recensioni È questo display che ti mostra anche alcune cose Comunque adesso andiamo subito a montarlo Così lo uso in questo video Eccoci qui ragazzi, non sento niente ma non importa Siamo qui adesso sulla schermata di The Forest Public Alpha version 0.20 Eh, ora siamo qui pronti a incominciare un nuovo game Speriamo di non cagarci addosso subito Perché veramente già con questa canzoncina qua Mi sto eh, scagazzando molle già nelle mutande Dovrebbe esserci una luce soffusa Ma lasciamo perdere che se no altrimenti crepo Comunque adesso vediamo un po' Eh, mi sembra che il gioco parli appunto che Di questo tipo qui che si schianta Eh, con un aereo quindi ha un incidente E deve sopravvivere su questa, su quest'isola Non so se sia un'isola o una penisola o qualcosa Ma lo scopriremo subito perché Eccoci qua sull'aereo Beh dai, la grafica non è male Oh guarda, c'ho anche il riso cantonese Ecco qua c'è il bambino che è senza capelli Un bambino pelato Secondo me le texture le hanno fatte male Le hanno fatte senza capelli Orco cane Cos'è che c'è? Oh 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 No ragazzi, ragazzi che cazzo No ragazzi, madonna Adesso Adesso Oh ragazzi Mamma mia Porca trota Porca trota Mi sto cagando molle E quindi E quindi io devo salvare il bambino La mia missione è salvare il bambino quindi Oh signor Vi giuro che c'è Nel senso non sono più abituato a giocare a sti giochi Eh, sono pieno di sangue Low energy Eat something No get rest Hungry Hungry Find something to eat Eat Ho mangiato Ah quindi Così Ah quindi c'è la cosa dello stomaco Ah ok Basic survival tutorial Getting started Ok, quindi qui C'ho tutta la mappa Equip Ok Ok Quindi praticamente se faccio così Spacco la signora Eh, mi dispiace per la sua perdita Mi hanno fatto un po' male però Non c'è il sangue qui Cioè, dobbiamo prendere un po' di roba Dobbiamo sgagnare un po' di roba qua Magari Dai apriti Apriti Cos'è che c'è qua? Voglio una barretta Voglio la barretta di cioccolato Dammi sta barretta di merda Intanto Se vedete Man mano che prendo roba Eh, la mia salute va a puttane Cioè nel senso Cioè, più che la mia salute È il mio stomaco Tanto che Questo episodio qui Sarà spaccare Le Le valigie Per cercare di trovare qualcosa Basic of survival Allora Shelter Ah, ho capito Quindi Ah, quindi praticamente Qua io devo fare un po' di roba Dai, spacchiamolo tutto Quest'albero di merda Eh, che ce l'hai fatta? Geronimo Cade Porca vacca Oh Io spero che però Non arrivi nessuno Eh, cioè Perché se no Dai, dai, dai Che spacco tutto qua Bravo, bravo, bravo Distruggi quest'albero Orco cane Orco cane Orco cane Cosa faccio? Orco Ma vaffanculo Ma vaffanculo Mi sto cagando addosso Porco cane Porco cane Orco cane Come faccio? Oh signor Adesso come faccio a mangiare Eccetera Ma dov'è che sono morto? Ma chi è che mi ha ucciso? Ma cos'è sta roba raga? Low energy Low energy Ma io stavo costruendo il mio rifugio Mani mortacci raga Mi sto cagando addosso Orco cane No, no Cos'è sta roba? Via, via, via Andiamo via da qua Che cazzo Mi sto cagando addosso Mi sto cagando Ho capito Io non devo fare Step two Fireplace Vai, vai Ok Quindi E adesso Dopo che ho lo zippo Oh Eccolo Oh L'ho preso Ok C'ho C'ho un lizard C'è Ho una lucertola Orco cane Ma quanti ce ne sono? Ragazzi Ragazzi Come cazzo faccio? So che cazzo ho fatto Oh Ho fatto un'ascia Orco cane Lo sapevo Ma quanti sono? Raga Sono fottuto Stavo costruendo l'albero Stavo costruendo l'albero Dai Siete dei bastardi Però Dai Ok Perfetto Abbiamo messo la nostra lucertolina Sul Sul coso Vediamo se possiamo mettere qualcos'altro Cos'è sta roba? Increase armor Where? Oh C'ho il coso della lucertola Figata Quindi ragazzi Adesso vediamo un po' Perché diciamo che mi devo un po' abituare a fare questa serie di video Qui nello studio fa anche un caldo porco Comunque abbiamo costruito due casette Abbiamo costruito il nostro dry rack Per appunto fare Ideale per preservare le carni eccetera Non c'è nessuno vero? Strano che però non ci sia nessuno Che ci viene a rompere le balle No manca ancora quella pietra lì Cavoli raga Raga porca zozza porca Madonna No 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 raga stavano venendo a vedere il mio accampamento Oh Una voleva prendermi con le Con una cosa Con una Trappola Orco cane Via Ma che cazzo è successo? Ma chi era quello? Ma come mai proprio adesso arrivano? Chi era quello lì? Mortacci sua Io volevo Fammi salvare Che cazzo è? Fammi salvare Madonna raga Mi son cagato addosso Via Ok Oh 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 No 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 Lasciami dormire Non voglio Lasciami dormire E quindi? Via via orco cane Oh cazzo non vedo più niente Non vedo più niente Che cosa succede? Che cosa succede? Perché questa musica? Via 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 Non so che cosa stia succedendo Ma io me ne devo andare Cioè Il mio istinto mi dice che devo correre E basta Cioè perché non posso più fare niente adesso Cazzo Guarda Guarda che stanno venendo a cercarmi Ma qui ci sono un casino di Roba c'è Guarda cosa si può fare Madonna che gioco raga Dobbiamo stare qui un bel po' A fare sta roba eh Ok ho salvato Salviamo salviamo Mamma mia siamo riusciti Siamo riusciti Nello step 3 No ragazzi niente Ma io voglio Voglio capire che cosa devo fare Perché non posso più dormire Oh io direi di finirla qui Perché ho salvato Poi Nel secondo episodio vedremo cosa dobbiamo fare Consigliatemi voi ragazzi Perché io mi sto cagando sotto eh Scusatemi ma È un gioco che Veramente Nella sua Praticamente Tranquillità Ti fa cagare addosso In questi momenti qua Perché non sai che cosa devi fare Cioè E poi non vuoi mai che Ti arrivi alle spalle Qualcuno Perché non si sa mai Che qualcosa arriva E ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Io sono qui un'ora Che sto registrando Perché Dovevo prendere anche un po' Confidenza con questo gioco E Fatemi sapere anche Se vi piace E Lasciate un pollice in su Non riesco neanche più a parlare Questo qui non è FIFA Cavoli È un Caga sotto Pauroso Quindi dal vostro cine è tutto Aspettate appunto PES FIFA 16 E tutte queste cose sul mio canale Bella lì un saluto blu 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 blu